Il coraggio che ci ha sempre dato per affrontare la vita, la razionalità, l'amore, cosa ho insegnato è essere altruisti, ad aiutare gli altri, quindi l'altruismo, la generosità e la voglia proprio di aiutare il prossimo, era fatto così proprio, questo è il ricordo più bello, l'amore per i suoi figli, per il suo mondo soprattutto, ci ha amato veramente tanto, l'ho trovato fenomenale, un papà fantastico, una persona molto semplice, umile, come l'avete conosciuto un po' tutti voi insomma.